Perché EDI Software dovrebbe essere diversa da tutte le altre aziende che producono software gestionali? Semplice, per l'idea. Per noi, gestire un'azienda è gestire le sue informazioni. Le informazioni devono essere archiviate, elaborate, integrate in un sistema che le renda sempre accessibili, aggiornabili, sicure. In qualsiasi momento. Per fare questo, ogni informazione deve essere sempre al posto giusto, al momento giusto. E il sistema deve essere rapido, semplice da usare e flessibile. Insomma, disegnato attorno alle vostre esigenze. Le soluzioni EDI Software sono proprio così. Onda, il software gestionale dedicato alle micro e piccole imprese. Oceano, l'IRP per la media azienda e il manufacturing. Smart Tech, per la gestione dell'assistenza tecnica e delle manutenzioni. Smart Sales, per l'automazione della forza vendita. Tutte le nostre soluzioni possono diventare le vostre, proprio come se le aveste disegnate voi. E se il sistema è più efficace, voi sarete più efficienti, risparmierete risorse, darete più valore al vostro tempo. Perché l'informazione a tempo zero significa più tempo per creare e coltivare il vostro business. Come lo sappiamo? Perché siamo come voi. EDI Software è nata nel 1995, per iniziativa di professionisti del settore con le idee chiare. Studiare e realizzare soluzioni sempre più avanzate ed efficienti, progettate attorno alle esigenze delle aziende. Oggi abbiamo oltre 18.000 utenti, 140 partner certificati e siamo Microsoft Gold Partner per garantire i migliori strumenti ai nostri settori di ricerca e sviluppo. Oltre a coltivare una grande passione per la migliore tecnologia disponibile. Ma il nostro punto di forza è la nostra proposta di partnership. Perché nel nostro lavoro abbiamo imparato che niente è impossibile se si condivide un progetto, una visione, un'emozione. E' così che nascono le buone idee. Venite a scoprire la gestione intelligente.